Quotidiano appuntamento con l'informazione di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre. In apertura alla cronaca la squadra mobile della polizia ha arrestato un uomo all'interno dell'autostrada A18 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico un 31enne straniero veniva sottoposto a controllo dopo che era stato notato alla guida di un auto articolato. Le indicazioni dell'indagato verso i poliziotti riguardo al carico trasportato non erano esaustive, in più l'uomo dimostrava un atteggiamento piuttosto nervoso. Così i poliziotti hanno condotto il mezzo in un'area riservata al centro di San Gregorio dove l'ulteriore controllo con il supporto delle unità cinofile ha dato i suoi frutti. Infatti occultate tra le pedane in legno sono stati rinvenuti circa 110 involucri di plastica contenenti marijuana per un peso di circa 65 kg ed un valore stimabile di 400 mila euro. L'uomo è stato rinchiuso presso il carcere di Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Continuiamo arrestato in un'abitazione ubicata nel quartiere Capuccini di Catania un 22enne destinatario di ordine di carcerazione resosi irreperibile dallo scorso mese di ottobre. L'uomo era all'interno di un appartamento a prima vista disabitato ma che dopo l'irruzione della polizia è risultato essere vissuto dallo stesso unitamente alla compagna. Tra l'altro alla vista dei poliziotti impugnava un fucile nascosto precedentemente sotto il letto pronto all'uso. Per fortuna gli agenti sono riusciti ad immobilizzare l'indagato sequestrando il fucile e le relative munizioni. Ancora cronaca continuano i furti delle marmitte catalitiche in particolare ad Acireale dove nei giorni scorsi nell'ambito delle attività di controllo del territorio un trentenne acese già noto alle forze dell'ordine veniva sorpreso in via Piemonte a armeggiare sotto una Toyota Yaris. L'intervento della polizia però impediva allo stesso di danneggiare l'auto. Il giorno dopo però l'uomo veniva nuovamente fermato unitamente ad un amico a bordo di un'autovettura all'interno della quale dopo i dovuti controlli sono stati trovati un flex a batterie ed una parte di marmitta catalitica di una Toyota Iaris. I due che dicevano di aver acquistato su internet il pezzo non essendo creduti sono stati deferiti alla procura della Repubblica. Passiamo adesso ad un altro argomento verrà riaperto sabato 18 dicembre alle ore 23 la corsia Mare Monte del raccordo autostradale che collega il casello autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto alla statale 113. La bratella era stata chiusa a causa di una voragine larga due metri e profonda sempre due metri. Ancora un altro argomento il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha inaugurato insieme agli assessori il presepe artistico l'albero di Natale e l'illuminazione artistico natalizia di Palazzo d'Orlean. Vediamo. Senza fare torto a nessuno il presepe è un luogo identitario anche. Invece l'albero no, l'albero non è di tradizione siciliana però ormai fa parte della nostra cultura e noi non abbiamo avuto bisogno di estirpare, di comprare nessun albero estirpato e neppure di comprare un albero finto. Abbiamo utilizzato un albero vero a tutti gli effetti, con la forma conica ed è anche bello. Passiamo adesso allo sport, al calcio nel girone I di Serie D, vittoria per la C-Reale contro il Real Aversa. Gli uomini di Mister De Sanso volano al terzo posto in classifica. Vediamo. Quando nonostante gli indisponibili, il nuovo infortunio di Lodi, un real avversa avvenuto al comunale di Aci San Antonio per non giocare e innervosire l'avversario, riesce a vincere la partita, allora puoi davvero affermarlo. La C-Reale se la giocherà con tutti fino alla fine, alla ricerca di un sogno mai sopito. Eppure all'inizio i campani si fanno preferire, aggrediscono la C-Reale e si rendono pericolosi dalle parti di D'Alterio, senza però mai impenserirlo più di tanto, complice anche l'infortunio, l'ennesimo, a corso all'Odi e al decimo, che complica non poco i piani della squadra di De Sanso. I normanni, squadra scorbutica di categoria, spezzettano tutte le trame dei Granata e il primo tempo si chiude ad occhiali. Negli spogliatoi De Sanso striglia i suoi e all'ingresso in campo si rivede finalmente la C-Reale che tutti conoscono. I Granata infatti si riversano rabbiosamente in avanti e al 48esimo, su un corner battuto da Russo, reclamano un rigore ai danni di Cannino. L'intervento del difensore ospite però è rude ma regolare. La C-Reale ci crede e vuole vincere e passa al 55esimo. Punizione di Luzzo, Garetto anticipa l'estremo difensore in uscita, il pannone resta in aria e Cadili deve solo depositare la sfera in fondo al sacco per l'invantaggio Granata che fa esplodere le tradinate del comunale. Gli ospiti accusano il corpo e si rigettano in avanti alla ricerca del pari ma non riescono a impenserire più di tanto la difesa locale se non con delle mischie che la difesa della C-Reale si oppone con ordine. Anzi, Piccione all'85esimo sfiora l'Eurogollo con un tiro che lambisce l'incrocio dei pali dopo il servizio di Russo. Altrici vince fischio e festa insieme ai tifosi. La C-Reale nonostante le tante difficoltà ne esce vittorioso e i ragazzi di De Sanso, anima e cuore, sono sempre più una certezza. Sognare è adesso lecito. Il servizio era di Marco Sciuto che ringraziamo e adesso passiamo alla Serie C dove c'è grande attesa per il derby di domenica prossima a Catania-Palermo. La società rossa-azzura ha comunicato il tutto esaurito in Curva Nord. Ancora disponibili i biglietti per gli altri settori, acquistabili online e presso i botteghini di Piazza Spedini. In chiusura, la triste notizia della scomparsa terrena della regista Lina Wertmüller, iconica autrice di numerosi successi cinematografici. Fu la prima donna nella storia ad essere candidata al premio Oscar che poi conquistò con l'Oscar onorario alla carriera nel 2020. Ciao Lina. Buon proseguimento.